Marco Magnesi si conferma campione del mondo, sicuramente è una cosa che ti preannuncio, questa intervista durerà un pochino di più dei 47 secondi che ci hai messo per vincere il match contro Pulana. Beh, è stata un'emozione grande perché diciamo che questa riconferma campione del mondo ci ha aperto le porte dell'America, quindi adesso si vola e si vanno a fare match ancora più importanti e altri titoli, quindi abbiamo grandi possibilità. Ci spieghi ora cosa succederà, si apre un portone più che una porta, sicuramente gli Stati Uniti danno ancora più valore a quello che stai facendo. Beh sì, essere arrivato negli Stati Uniti è un grande traguardo, ma è anche un punto di partenza perché adesso lì è tutto un altro mondo, ci faranno fare match importanti sotto a riunioni di livello e molto importanti anche il contesto, quindi non vedo l'ora di prendere l'aereo e andare lì. Quando potremo vedere Marco Magnesi sul ring così? Potremmo anche svegliarci di notte per vedere un tuo match? Spero presto, spero molto presto, stiamo definendo gli ultimi accordi e poi si parte. Sì, quindi speriamo che possa arrivare questa grande possibilità per te. Tornando al match contro Bulana, ho detto solamente 47 secondi, tantissimi complimenti sono arrivati per te. Ti guida solamente l'istinto oppure c'è anche una preparazione particolare per poter chiudere un match in così poco tempo? La preparazione che si fa per una difesa di un mondiale è una preparazione molto studiata, ma molto preparata nei dettagli. Abbiamo fatto una preparazione molto meticolosa e certo ci aspettavamo di vincere, magari anche prima del limite, ma non così. Quindi il colpo c'è stato, sul ring io vado distinto, quindi non mi preparo un colpo preciso. Quando sono lì, nel momento in cui mi sento di portare il colpo, lo porto e fino adesso sono andato tutti a segno. Poi anche la dimostrazione è che sul ring bisogna stare sempre attenti, basta un paio di secondi di distrazione e scherzi di andare al tappeto. Sì, il ring è il pericolo di ogni pugile, bisogna sempre rimanere concentrati e liggi su quello che fai, perché anche alla dodicesima ripresa, se tu hai vinto tutte le dodici riprese, ci può scappare un colpaccio e rivoltare tutte le sorti del match.